Gentili telespettatori, buona giornata. Così il Codacons, l'associazione dei consumatori, minaccia di chiedere il sequestro di Che Tempo Che Fa, perché Fabio Fazio ha già invitato Chiara Ferragni nel suo programma sul 9, Che Tempo Che Fa, per parlare della situazione che la coinvolge, che può essere le questioni della beneficenza e anche, soprattutto, la questione con la presunta separazione con il marito Federico Lucia in arte Fedez, perché nel caso in cui non venisse offerto un adeguato contraddittorio a Ferragni, nel caso venisse affrontato il caso del Pandoro Balocco, dove lei può dire la sua, ma senza un contraddittorio, una controparte. La separazione della coppia vi racconterò poi in un altro articolo c'è anche chi sostiene che sia assolutamente un'operazione di marketing per distogliere dai veri problemi che stiano architettando tutto, per far parlare di quello e non di nuove indagini che si possano aprire anche in questi giorni proprio su i biscotti oreo o altro. Dall'ufficio stampa di Chiara Ferragni e dall'ufficio stampa di Fedez al momento non arrivano né smentite né conferme sulla presunta separazione di questa coppia. Anzi, non è che non rispondono ma rispondono nessun commento, quindi c'è la risposta con scritto nessun commento. E dopo la notizia della separazione definitiva si sono rincorse voci anche sulla presenza della Ferragni da Fabio Fazio, prossima domenica. Appuntamento poi rinviato domenica 3 marzo, forse perché si sono resi conto che probabilmente si stava correndo troppo, ma davanti alla notizia ormai ufficiale della presenza nel programma più visto del canale 9, il Codacons ha deciso di opporre strenua resistenza. Il Codacons ricorda a tutti che oltre a essere una madre separata e sconsolata, infatti l'influencer è soprattutto un'imprenditrice che al momento è iscritta nel registro degli indagati della procura di Milano per tre casi di truffa aggravata. Balocco, dolci preziosi, l'uovo e la bambola Trudi, ma se ne sono in arrivo anche altre, probabilmente, trapela da qualche procura. E il Codacons dice Fazio non ha perso l'occasione per accaparrarsi l'intervista con una delle personalità del momento, in bene o in male, più cercate dai media e questa per Ferragni sarà la prima vera intervista dopo il caso del Pandoro Balocco. Ed è probabile, anzi, è quasi certo che l'influencer non parlerà della tempesta giudiziaria che l'ha coinvolta, ma apparirà in pubblico solo per raccontare del suo momento familiare. Forse Fazio offre furbamente una strategia per distogliere parte dell'attenzione dall'indagini per truffa aggravata, approfittando della necessità di Ferragni di ripulirsi l'immagine, visto che la sua reputazione ormai è a livello zero. Il Codacons dice questo. Potremmo chiedere il sequestro della trasmissione che tempo che fa se non sarà annullata l'ospitata. Quindi non se la Ferragni parla delle inchieste, ma solo se la Ferragni va. Quindi se viene ospitata, noi chiederemo il sequestro della trasmissione. E aggiunge il Codacons, appare di per sé inaccettabile che una rete televisiva dia enorme spazio ad un soggetto sotto indagine da parte della magistratura per reati gravissimi contro i cittadini. Sarebbe un vero e proprio insulto da parte di Fabio Fazio e nove agli italiani. E aggiunge il Codacons, il punto è che Ferragni potrebbe parlare da Fazio del caso del Pandoro Balocco senza alcun contraddittorio, riportando solo il suo punto di vista sulla vicenda a discapito dei telespettatori. D'altronde le interviste di Fazio in realtà non sono mai imparziali, sono sempre per la causa della sinistra. Quindi delle interviste impregnate di quel buonismo che trasforma poi l'intervista in una beatificazione. Alla fine dell'intervista tu hai visto e hai sentito raccontare le gesta eroiche di un grande personaggio. E così il Codacons dice verrebbe così portato un'offesa anche verso il lavoro dei magistrati milanesi che stanno svolgendo indagini complesse delicatissime e proprio nel rispetto del ruolo della magistratura Fazio avrebbe dovuto astenersi dall'invitare l'influencer in trasmissione. E poi proprio il Codacons chiede alla televisione 9 di annullare l'ospitata di Chiara Ferragni se non sarà previsto un equilibrato contraddittorio con l'influencer sul caso del Pandorogate. Se così non fosse, dice l'associazione, siamo pronti ad un ricorso d'urgenza per chiedere il sequestro della trasmissione. Quindi secondo il Codacons un indagato non potrebbe andare in televisione. C'è un piccolo fatto, io non sono un esperto di queste cose come il Codacons, ma caro Codacons, caro presidente del Codacons Rienzi, ma noi abbiamo un certo numero di politici che non solo sono indagati, che sono condannati, condannati, indagati e condannati. A questo punto dovreste impedire a tutti questi politici di rilasciare interviste e di andare in televisione. Perché io ho qualche nome da fare, ma ci sono dei politici condannati che li vedo fare dichiarazioni e li ho visti anche in un'intervista settimana scorsa, che erano lì che pontificavano col cellulare facendo vedere all'avversario e sono condannati. Ecco, diciamo che se è applicabile a Ferragni che un'indagata non possa andare in televisione, allora tutti i politici indagati e condannati che ci sono non dovrebbero mettere piede in una trasmissione televisiva. Grazie a tutti e arrivederci a presto.